Ciao a tutti, mi chiamo David. Io ho assento questa professione di infermiere, ho avuto diciamo che le superiori ho fatto praticamente una scuola meccanica e quello che mi è mancato lavorando in fabbrica praticamente è stato praticamente un rapporto diretto col paziente. Una volta entrato, una volta che mi sono laureato, ho potuto praticare la professione, ho avuto diciamo avere un bel rapporto col paziente e ho scelto, diciamo, ho avuto la fortuna di entrare poi in ortopedia e ho, sono quasi vent'anni praticamente che pratico questa professione in sala operatoria ortopedia e sala gessi e mi è sempre piaciuta perché praticamente ho avuto, sono stato appassionato praticamente del ramo dell'ortopedia, la cura delle fratture, osse, tutto quello che riguarda diciamo l'ambito dell'ingessatura e niente spero di continuare praticamente questo percorso di crescita.